Ciao a tutti, bentornati su Noi Quiz. Questo è un video speciale con un'anteprima. Sto lavorando sul nuovo palinsesto 2021 del canale Noi Quiz. Cosa ci sarà di nuovo? Un format molto molto particolare, che spero vi piaccia. E ho realizzato un promo, un piccolo piccolo video di presentazione. Ve lo faccio vedere in esclusiva nazionale e internazionale. Vai un po'. Siete pronti a venire con noi nell'antico Egitto? Siete disposti a farvi conquistare dal mistero dell'ignoto? Avete curiosità nel decodificare alcuni geroglifici da antichissime pergamene? Allora siete i concorrenti giusti per il nuovo gioco firmato Noi Quiz. Esploratori e esploratrici del deserto, sapete chi vi aspetta dalla sua stanza dei segreti? Lei è fantasiosa, è criptica, è sibillina, è tenebrosa. Lei è... La sfinge. Allora, cosa ne pensate di questo gioco di ambientazione egiziana? Potrebbe essere proprio il ring, entro il quale vi proporrei una sfida nel torneo. Chi lo sa, dei tet a tet, dei trattitani, veramente dei campioni di Noi Quiz. Come bisogna partecipare? Come si può accedere alla selezione dei concorrenti? Allora, il casting funziona così. Quindi, sceglieremo i più motivati. Sotto questo video vi chiedo di segnalarmi perché vorreste partecipare. Ma dicendomi una cosa importante. Quale realtà vorreste portare alla luce? Noi possiamo accendere un riflettore su qualcosa che vi sta molto molto a cuore. Avrete 60 secondi per parlarne sul palco di Noi Quiz. Vi faccio un esempio. Se fosse capitato a me la possibilità di partecipare a questo gioco, avrei presentato la mia associazione Onlus, fondata nel 2002, Noi Briciole. E avrei parlato della sua mission, del fatto che aiuti molti bambini da tanto tempo, eccetera, i reparti oncologici, pediatrici, di neonatologia. In poco tempo avrei dato i riferimenti per sostenerla. Questo è lo spunto che vi posso dare, l'input. Potete presentare una realtà che vi sta a cuore, un'attività che svolgete che vi appassiona, uno sport a cui siete particolarmente legati, un libro che avete letto e che vi fa piacere condividere con il grande pubblico. Ci sarà appunto questo torneo e il vincitore avrà accesso a questo spazio libero. E quindi nel commento mi dovrete scrivere partecipo come concorrente con il nome e desidero presentare su Noi Quiz questa realtà che si occupa di questo, questo, questo e questo. Ovviamente non faremo pubblicità occulte o strambe. selezioneremo veramente le motivazioni più belle, quindi siate molto descrittivi nel commento qui sotto e potremo appunto portarvi avanti nelle selezioni e per poter dare inizio al torneo di primavera per il primo anno di Noi Quiz. Bene, questo è l'invito che vi faccio. Aspetto i vostri commenti e una grande opportunità che abbiamo tutti è quella di far crescere questo canale che sta dando già grandissimi risultati in poco tempo. Vi sprono a far iscrivere le persone vicine a voi almeno, no? A chi conoscete, ai vostri familiari, a proporre il video trailer di presentazione anche ad altri contatti a cui è difficile arrivare. Vi ringrazio, aspetto le vostre autocandidature e ci vediamo presto su Noi Quiz. Ciao! Esploratori e esploratrici del deserto